Le transizioni da maschio a femmina e da femmina a maschio rappresentano realtà estremamente minoritarie, ma appaiono immediatamente visibili perché sfuggono alla norma. Ma altre transizioni passano inosservate perché la confermano, anzi la rafforzano. Mi riferisco alle transizioni da maschio a supermaschio e da femmina a superfemmina. Allora queste parole le ho tratte da un libro Lavoro in corpo di Luisa Stagi che è qua accanto a me, però io già sono polemico con questa cosa. A parte che difendo chiaramente il diritto di ognuno di fare quello che vuole col suo corpo, però non mi sembra opportuno che uno poi dopo aver fatto dei cambiamenti che sono epocali e che lo rendono particolarissimo, notevolissimo, pretenda di non essere guardato. Certamente la grammatica si usa per essere guardati, quindi io prendo i codici che ci sono in giro, li utilizzo, infatti nel libro parliamo di questo concetto bello di bodyscape. Nel senso che il mio corpo diventa una specie di panorama? Sì, è un corpo che prende tanti codici, li ibrida, li capovolge, fa un mosaico di quello che vuole. Comunque non ti sembra un po' recriminosa questo atteggiamento di dire io mi faccio un seno della centocinquentesima misura, giro con un vestito di pailletta al mattino in via Garibaldi, però nessuno si deve osare di alzare gli occhi su di me? No, certamente se eccedo vuol dire che voglio essere guardato. Appunto. Però la cosa interessante è che vengo guardato solo se uso il codice giusto. L'obiettivo quindi è non passare inosservati? Oppure passare inosservati, perché la tesi del libro è che attraverso il lavoro sul corpo si possa apparire oppure scomparire dalla scena. Benissimo, siamo qua nel cortile di Palazzo Rosso, questa nuova trasmissione si chiama Angeli e Diavoli, ovviamente per questi meravigliosi angioloni del Settecento che vengono dalla chiesa di San Silvestro che era in Sarzana e sono stati ricollocati dall'Albini qua nel 1950 quando è stato ristrutturato tutto il palazzo. Loro sono gli angeli, io sono il diavolo in rosso, Susanna Gozzetti è un diavolo di professione, ma siamo diventati un po' tutti diavoli, anche Gabriele Baroni. No, io sono un angelo di professione. Sono un angelo, va bene, allora tu stai da parte degli angeli che è una parte molto più noiosa, mi dispiace. Vedremo, lo vedremo alla fine della trasmissione. Allora, mi sembra comunque che il tuo sia un libro sul corpo che è una cosa che richiama l'attenzione di tutti, no? Viviamo fino a 120 anni, quindi dobbiamo mantenerci perché sennò vivremo, diciamo, una vecchiaia veramente lunghissima e sarebbe insopportabile. Medicina estetica, sì, diciamo un po' palestra, sì, un po' tutto, diciamo sì a tutto, no? Sì, a tutto se scelto con un po' di consapevolezza e ironia. È giusto lavorare sul corpo come si vuole, quindi sia la chirurgia estetica, se ti consente di assomigliare a quello che vuoi essere. Beh, c'è chi lo fa per togliersi le occhiaie. Esatto, però va bene anche usarla per scomparire, cioè essere molto uguale a tutti gli altri mi consente di essere quasi un uniforme, no? Mi sembra una forma di perversione questa, nel senso che allora adesso, dato che tutte le donne hanno gli zigomi e i labbroni, allora questo ti consente di scomparire, secondo te? Eh beh, effettivamente un po' diventi tanto simile agli altri e quindi ti si nota di meno. Tu lo fai per essere notato di più, però alla fine diventi molto... Le barbie sono un gioco da femmine o da maschi? Guarda, sto facendo un lavoro bellissimo in un asilo e questa bimba carina che mi spiega le cose da maschi e da femmine mi ha detto che le barbie sono uno dei pochi giochi, anche da maschi, perché le barbie vanno in pizzeria, hanno bisogno dei fidanzati e allora ci vogliono anche i maschi. Allora, senti un attimo, ma la cosa che volevo dire è questa, questo progetto di cui stai parlando alla bambina è che tu fai questa cosa step del comune, no? Sì. In cui osservi praticamente il comportamento dei bambini in un asilo e tu mi parlavi del fatto che quando si parla di studi di genere, eccetera, eccetera, ci si riferisce sempre alle donne, come se gli uomini, tanto anche se vengono male, chi se ne frega, cioè non l'ho capita questa, cioè le pari opportunità non sono anche per gli uomini? È vero, quello che cerchiamo di fare, però in realtà quando si parla di studi di genere ci si riferisce sempre alla questione femminile. Della maschilità ce ne occupiamo sempre di più, ce n'è bisogno, si dice che il maschio è in crisi, no? Si parla tanto della crisi della maschilità. Non è che sono in crisi, che si lamentano in continuazione che gli uomini non le fanno godere, non le portano fuori, non gli aprono la portiera, non gli lasciano spazio, ma che sono le donne che si lamentano, mica gli uomini? Eh, però ne parlano tanto anche loro, infatti poi si comprano quei mensili in cui ci si danno tutti i consigli, no? E attraverso il corpo sembra che tutti i problemi si risolvano, no? Quindi adesso ti consigliamo come farti venire degli addominali perfetti, come essere performante e a quel punto vedrai che anche lei è contenta. Che poi sappiamo benissimo che non è vero, sappiamo che l'obiettivo in realtà sarebbe l'accoglienza del proprio corpo, no? Perché poi ci sono un sacco di persone, anche di attori famosi che non sono affatto belli, ma che hanno un successo strepitoso con le donne, forse sia da una parte che dall'altra. Infatti attori belli, attrici… No, beh, pensa a Bette Midler, ora, tutta stagnocca non è… Eh, però è la carismatica, va tutta una serie di caratteristiche. Sì, ma che piacciono le persone carismatiche? Non è che uno può dire no, gli sfigati devono… ti deve piacere perché è sfigato, ma chi è che piace uno sfigato, scusa? Sì, però diciamo che nel maschile è più facile trovare la caratterizzazione, no? Ma se non c'ha due lire un maschio dove va? Ma stai zitta, ma cosa dici? E l'uomo deve pagare, non ho capito. Allora, cioè, secondo me questa lotta tra i sessi deve proprio smettere. Io credo che non ci sia proprio la guerra oggi dei sessi, nel senso che semmai c'è molta più vicinanza fra maschile e femminile oggi, nel trasformarsi il corpo… e tanto è vero che il primo passo che tu hai così catturato parla di chi ha bisogno di fare dei gesti estremi per farsi notare, perché in realtà è tutto molto più omogeneo. E in questa omogeneità c'è bisogno di avere delle politiche del corpo. In fin di conti una volta tu, insomma, la società era strutturata in maniera molto tradizionale. Se tu eri un operaio, più o meno anche la tua fisicità era quella. Oggi possiamo fare un po' tutto. Sì, è vero. E quindi come lo facciamo? Secondo me dal libro si trae una grande consapevolezza bella di non avere paura del corpo, né del corpo come è, e lo citavi tu adesso Michele, né delle sue possibili trasformazioni. Siccome stiamo parlando di modificazione, vorrei citare una frase di Orlan, che è un'artista che usa il suo corpo come tela. Lei infatti dice che l'arte carnale trasforma il corpo in linguaggio, rovesciando l'idea biblica della parola fatta carne. La carne si fa parola. Lei proprio dice questa cosa che diceva Gabriele, cioè attraverso il lavoro sul corpo posso addirittura superare quello che la natura mi impone, no? Quindi, tanto per capirci, Michael Jackson che ha lavorato... E non è finito benissimo. Non è finito benissimo perché lui comunque aveva molta paura della malattia e poi in quello è rimasto... Ma è diventato da nero bianco, cioè ma sono delle robe atroci. Ecco, ma lui si è reso indefinito, no? Né nero né bianco, né maschio, né femmina, né giovane, né vecchio. Orlanti dice volendo attraverso il lavoro sul corpo possiamo toglierci dalle categorie che invece ci inchiodano. D'altronde le società l'hanno sempre fatto, nel senso che da una società all'altra il corpo cambia, si trasforma e quello che ci sembra normale non è normale in un'altra... Perché siamo consapevoli che ciò ha un costo, sia in termini fisici, sia in termini psicologici. Questo è interessante perché è il lato psicologico, cioè è che quando io dico che politica ne faccio, è che poi che significato ha per me. Questo poter giocare, ridefinire, spostarsi, il passo che leggevi tu all'inizio parla di una transizione ed è provocatorio perché dice non sono solo le persone che noi chiamiamo trans che transizionano, no? Usando il corpo tutti transizionano da, per esempio, una più o meno maschilità. Pensiamo ai bodybuilder, in fondo che cosa fanno? Gonfiano la loro maschilità. Sì, tutto è lecito, però ricordiamoci che l'obiettivo è di accogliere il proprio corpo, non di rifiutarlo e di trasformarlo facendo delle amputazioni, perché queste sono amputazioni. Infatti un po' il segreto della trasformazione sta, come dici tu, nell'accettazione. Se io mi accetto, posso essere anche libero di sperimentare. Ecco, io però volevo introdurre una frase un po' più provocatoria, il mio famoso assioma non godi i cazzi tuoi. Cioè, tornando un attimo alla lamentela, alla recriminazione al maschile femminile. Il fatto che la donna dia in appalto il proprio piacere agli uomini e gli dica se io non godo, la responsabilità è tua. Ma tu sei d'accordo? A me sembra una perversione, a me sembra una roba da schiave. Ma io ecco, sul desiderio e piacere femminile diciamo, ho riflettuto abbastanza anche nel libro, in qualche modo se ne parla. Infatti si usa metaforicamente un tema che è molto spinoso, molto dibattuto, che è quello del velo. Fatima Bernissi dice, voi ci accusate tanto, insomma parlate tanto del nostro velo e poi non vi rendete conto che voi il velo ce lo avete dentro, lo avete interiorizzato. Cito Iole Baldaro Verde che dice, appunto, noi andiamo a fare politiche o comunque comunicazione su una cosa che per carità è delicatissima come l'infibulazione e poi noi l'infibulazione ce l'abbiamo mentalmente. Perché effettivamente la cosa più interessante della riflessione sul corpo è che spesso certe cose le abbiamo interiorizzate e diventano pratiche, diventa un controllo, diventa una incapacità di desiderare, una incapacità di godere. Per chiudere c'è una bellissima poesia di Amal al-Jaburi, che è una poetessa irachena che vive in Germania, che parla proprio del velo del corpo. La nudità è un corpo, un viaggio che trasporta l'anima su un binario da tempo abbandonato da treni e che conduce i passeggeri a uno spettacolo tragico. Il corpo è un altro cacciatore e la preda un pretesto, ciò nonostante i corpi hanno un nuovo architetto che crea soffitti, pareti e porte strane. I corpi sono metalli denudati del mercurio del tempo e dell'atto dell'amore. Scoprono l'oro falso e in quegli istanti il corpo sale sul treno della consapevolezza, unico suo cacciatore. La consapevolezza come unico cacciatore del corpo mi dice in effetti. Volevo solo fare una chiosa sulla cosa che hai detto tu della lamentela femminile. Io credo che la lamentela femminile sia un retaggio di una relazione con un maschio che non c'è più, dovrebbero veramente togliersi alle donne perché l'uomo è molto più disponibile venire l'incontro se si toglie questa richiesta. Un po' affannosa. Affannosa. Io ho portato Patrick Saskind, scusate la pronuncia, però è un bellissimo libro, romanzo, è un bellissimo anche film ed è tutto centrato sul corpo e il suo odore e noi viviamo in una società dove il corpo sta, diciamo, perdendo odore. È una cosa drammatica perché l'odore è la molla della sessualità tra l'altro. Sì, ma se tu pensi, questo è scritto, è ambientato nel 700, però noi nel 600 abbiamo perso i rapporti proprio personali dove ci si inchinava e si sentiva la puzza dell'altra persona. Quindi noi abbiamo portato una progressiva decorporalizzazione dei rapporti umani. Tra l'altro è molto interessante sul maschile e femminile. C'è tutta una sorta di opposizione fra il maschio brutto, la donna bella, il profumo. Insomma, un romanzo che fa sociologia un po' come i messaggi di Luisa che sono un po' a un certo punto dei pezzi di romanzi perché la sociologia qualitativa di Luisa ha questo grande pregio. Devo chiudere, devo toglierti la parola Gabriele soltanto per ricordare che presentiamo il libro di Luisa qua nel giardino di Palazzo Rosso il 3 di maggio e affronteremo l'argomento in maniera un po' più esauriente ed esaustiva. Quindi se volete sapere tutto del corpo, degli uomini, delle donne, di tutti, insomma potete venire qua a Palazzo Rosso il 3 di maggio. Ciao!